Safegate Pro. Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Una rapida irruzione artica sta attraversando l'Europa centrale e si dirige al centro e al sud dove porterà un po' di freddo, forti venti di tramontana, acquazioni anche nevicate sino a quote alto collinari sul medio-basso del sante adriatico. Anche l'Abruzzo fare conti con questo rapido peggioramento di stampo invernale. Nel corso di questo martedì il tempo tenderà gradualmente a migliorare su tutta la regione. Avremo ancora qualche annuvolamento residuo al mattino con delle nevicate sparse sino a quote collinari però fenomeni abbastanza deboli più presenti a ridosso dei monti. Altrove cieli via via sempre più sereni tra pomeriggio e sera. Avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Dal punto di vista termico valori in calo soprattutto nelle minime. Valori tra i meno 2 e i 6 gradi massime tra 4 e 10 gradi. Il momento più freddo sarà all'alba dopo di che avremo un momentaneo aumento termico nel pomeriggio poi in tarda sera. Grazie al ritorno dell'alta pressione le temperature torneranno a scendere in modo repentino e avremo un mercoledì piuttosto freddo nelle prime ore della giornata. Con questo è tutto grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito safegatepro.com Grazie a tutti.